grande invenzione cosa denaro c'è di meglio per esempio la ruota i fiammiferi gli occhiali la bicicletta coi soldi compri tutto e anche di più ma perché di più poter dire io sono io posso io valgo io voglio tu non conosci l'uomo lo conosco meglio di te e so che non tutto si compra tutto a un prezzo ci sono cose gratuite cose inafferrabili inestimabili per esempio l'aria è gratis il sole gratis l'amore è inestimabile la vita con te non si può discutere parli sempre dei massimi sistemi in realtà è il denaro che fa girare il mondo in realtà è la gravità che fa girare il mondo ma io intendo il mondo vero quello delle città degli affari delle auto per il denaro si vive si lavora ci si unisce ci si divide si corrompe ci si uccide è il denaro il fine della vita il denaro è un mezzo maledetto o benedetto tutti gli imprenditori sono malfattori o bene fattori ogni cosa il suo rovescio come quella moneta ti va di fare una scommessa su cosa sul denaro sull'uomo uomo più denaro uguale economia ed economia sia lancia la moneta e vediamo chi raccoglie la sfida e vediamo chi raccoglie la sfida grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti